il ruolo del giudice, quindi il ruolo mio per quello che ho esercitato professionalmente è un ruolo di potere come tutti i ruoli di potere è una lente di ingrandimento sul tuo carattere se tu sei un cretino sarai ancora più cretino se sei una persona buona sarai ancora più buona se sei una persona narcisa sarai ancora più narcisa e così via quindi perché i giudici, i magistrati i pubblici ministeri e anche i difensori sono esseri umani e quindi è chiaro che il loro carattere sarà condizionato dal potere che esercitano dovrebbero essere persone molto equilibrate quello è chiaro che dovrebbe esserci l'equilibrio in questo io condivido chi dice che i magistrati dovrebbero essere sottoposti a un test psicologico perché come alcune professioni tipo il pilota d'aereo o altre professioni sono professioni veramente delicate che devi essere sottoposti per forza a un test psicologico per mantenere un equilibrio anche perché sono impatti con la realtà molto difficili è vero pure che noi giudichiamo singoli fatti non vite intere delle persone solo Dio giudica la vita della persona diciamo noi giudichiamo solo singoli fatti però singoli fatti incidono nella vita della persona abbastanza pesantemente tant'è vero che io ho solo due timori dopo la morte uno che Dio è laziale perché me lo trovo me lo trovo con lo sciarpone laziale che lui ama gli ultimi quindi probabilmente è laziale sicuramente ma me lo trovo che mi manda all'inferno solo per il fatto che io sono romanista e la seconda cosa più seria è che la mia professione è quasi giudicare la vita degli altri in terra seppur singoli fatti è un compito delicatissimo di grande responsabilità ma il compito del quale ci sarà secondo me chiesto contro nell'aldilà perché comunque è un compito è una professione di grandissima responsabilità e grandissima delicatezza a questo punto voglio parlarvi della legislazione sui minori e sugli anziani vi dico solamente che c'è sempre più tutela dei minori i minori possono sempre più decidere all'interno delle separazioni dove andare con chi andare sempre più disporre dei propri trattamenti sanitari man mano che crescono sempre più la possibilità di decidere dei propri trattamenti sanitari e poi c'è il carcere per i minori e proprio l'estrema razio ci sono tante opportunità prima per fare cose diverse dal carcere in Italia adesso l'attuale problema io sono al dipartimento dei minori al ministero l'attuale problema sono i minori non accompagnati che voi sentite parlare succede spesso che i genitori di là del mare lasciano i propri figli direttamente in Italia sapendo che poi ci sarà una tutela specifica per loro e se ne tornano al loro paese quindi non è che vanno tutti insieme a cercare fortuna ma lasciano i figli in Italia e se ne tornano al loro paese quindi questo è un grosso problema che si è sviluppato in Europa naturalmente in Italia e sta all'attenzione italiana in questo momento il secondo problema sono i foreign fighters cioè sono i combattenti stranieri che tornano in Italia pure i combattenti stranieri che crescono in Italia quindi i ragazzi musulmani islamici che crescono in Italia però era un problema in Italia solo embrionale mentre in molti paesi europei sono i primi posti di coraggiamento di persone nelle combattimenti in Silvia nelle zone del Medio Oriente in Italia ancora siamo agli inizi però è un problema che si è posto all'attenzione sono i due problemi sul tavolo del Dipartimento Minore in questo momento in questo momento che si è posto all'attenzione che si è posto all'attenzione